Ladies and gentlemen, benvenuti in questo secondo appuntamento di Supermercato Simulator A quanto pare ho scoperto di avere una dote nascosta nel fare ordini, posizionare cose sulle mensole, battere oggetti alla cassa e restituire i resti Un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, io vi auguro una buona visione Ma guardate che bellino, il mio piccolo angolino di paradiso in questa c... Signore! Oh! No! Pensavo che si sarebbe fermato Dobbiamo fare un po' di cose, ho letto i commenti Non sapevo ma possiamo prendere un prestito dalla banca per espanderci ancora di più rispetto a quello che abbiamo adesso Che non è poco, perché non è poco, comunque siamo già a livello 8 del nostro negozio Ma non è ancora tutto abbastanza automatico, vogliamo scalare questo business Pertanto, prima di iniziare, se diamo il via poi parte il timer Andiamo in banca e crediamo un prestito Vediamo quanti soldi... Cosa? Voglio un sacco di soldi in dieta Oh mio Dio! 750 è il prestito di base che posso prendere? Ma io penso di poterlo restituire tranquillamente in 10 giorni Vai! Prendiamo questo prestito di 750 dollari Così possiamo iniziare ad essere un pochino più grossi Mi prendo due scaffali nuovi Faccio un refill di tutti i prodotti che abbiamo Di tutti raga Ci rimangono 230 dollari Vi dirò di più No, li tengo, li tengo per adesso Guardi quanta roba Partiamo dagli scaffali nuovi Che possiamo mettere tranquillamente qua al centro Tipo uno qua Così E l'altro lo mettiamo opposto Specchiato verso la cassa Molto, molto bene Già prende più forma, eh Già prende forma Appena possiamo prendere un dipendente, ragazzi Faremo il salto di qualità Perché io posso gestire tutti gli scaffali Lui può battere la cassa, tutte le robe Quindi siamo da Dio dopo, eh Allora, aspetta che qua Vorrei spostare la pasta Quindi appena trovo la pasta Che dovrebbe essere questa... No Questa è ancora caffè Mettiamolo qui Appena posso spostare la pasta Tanta roba Così dividiamo per bene gli scaffali Le uova Le uova, le uova, le uova, le uova, le uova Molto bene Tutto il ripiano pieno Oh, ecco la pasta che volevo io Perché così posso recuperarla da questo scaffale Spostarla di qua Molto, molto bene E adesso avremo sicuramente più ordine Perché qua sopra sarà tutto quanto tè Questo lo posso sollevare di qua Lusso Lusso Inizia ad essere bella e importante la situazione È molto soddisfacente mettere le cose dentro Direi di partire Così possono iniziare a venire a comprarmi le cose Abbiamo tutto, giusto? Non dovrebbe mancare assolutamente niente Guarda, ne approfitto Tanto ancora non è arrivato nessuno Metto i cereali anche qua davanti Specchiati No, lo dai Non ha senso Mettili qui E fixiamo un po' questi prezzi Cioè, vogliamo lucrare un po' di più o no? 6.49 Dai Aumentiamo un po' Che qua c'è da ripagare il debito con la banca 11 Lo zucchero 5.50 Fai anche 5.99 Tiè E qua è rallentato parecchio il processo, eh 15.22 Ho bisogno di qualcuno che lavori al posto mio Che faccia questo al posto mio, raga 96 Tieni Appena arriviamo al livello 10, ragazzi Mettiamo subito qualcuno alla cassa a lavorare al posto nostro, eh Ora di prodotti ce ne dovrebbero essere in abbondanza Uh, lei ha comprato tantissimo E mi sta simpaticissimo Tieni Ricordiamoci che devo acquistare nuove licenze, eh E devo comprare anche il freezer Perché per ora non ne abbiamo Hanno già comprato qualcosa di buono per poter svuotare i miei scatoloni Direi di sì Il formaggio, no L'hanno preso il formaggio Ok, mi sembrava Espansione Israel Sì, signorina Siamo nuovi in questo quartiere Presto avrò il controllo di tutto E mi acquisterò anche questo magazzino Venite tutti quanti Nella mia piccola boutique 36 e 36 Qualcuno mi pensa, signorina E lei? No Ma come può tutta questa roba comunque entrare sempre nelle buste che sono minuscole a volte? Oh, abbiamo già 600 dollaroni, eh Fammi accendere un po' la luce Così si vede meglio La farina costa il giusto Non costa tanto Non rompo 1, 2, 3 43 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Ale Via Salve Solo il caffè E con la carta? Bene 11 dollari Belli secchi Quando avremo il magazzino Caffettino Caffettino Refillino Sì, sì Arrivo, arrivo, arrivo Devo solamente buttare questa Mi avvicino anche un secondo La scatolina Grazie Belli Ma che carina signorina Ma se vuole invitarmi a cena Io vengo Molto volentieri Vogliamo fare una cena 3? Cena... No? Ok Prodotti troppo costosi 2 Sì Vabbè Capirai Ora costosi Mi sembra un parolone Cioè Qua si fa quel che si può Ma pensate Prodotti troppo costosi Ma come può essergli Solo passato per la testa Questo lascialo un attimo qua A disposizione Che può esserci utile Iniziamo a portare latte Latte di nuovo qua dentro Ne avevo già un po' No l'avevo finito Bene Controlliamo immediatamente La gestione delle fatture L'affitto Fammi controllare Banca Posso pagare tutto Ecco qua 82 dollari da pagare Dica poco Dai apriamo 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 Ci siamo Oggi arriveremo Quasi sicuramente A livello 10 E sarà bellissimo Sarà fighissimo Allora Questa cassa in teoria Posso anche Leggermente spostarla Più in qua Buono così Io ci passo Che è top Fai mettere lo zucchero Là sotto Così ci liberiamo anche di questa Servono Le licenze Per i nuovi prodotti Ma prima Ve l'ho detto Dobbiamo assumere Quindi Assunzione Ci servono Pochi ancora clienti Per arrivare al prossimo livello Fantastico E prendo il cassiere Sì Sì ci sono Signorina Domani Probabilmente Avrò un aiutante Le rimarrà Sicuramente Simpatico Ne sono certo Bravissima Lei che ha comprato Un botto di roba 20 dollari 50 e 98 98 Ma le pare Ma le pare che le tolgo 40 centesimi Qualcuno addirittura Mi raggiunge in tax Ah no Lei vuole venire a comprare No Con quella macchinetta Bellissima Guarda quanta roba Bravissima Le uova vanno a ruba Vanno a ruba Le uova Voglio fare il nuovo record Di acquisto eh Qualcuno deve comprare Un botto di roba Il formaggio costa troppo Per me Dai Ma smetti No Che fai Che fai No 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 Il resto non c'è qua Gli stavo regalando 16 dollari Altezza Stiamo scherzando 12.49 Formaggio Vallo a prendere Da un'altra parte Caprone Porta rispetto Ma pensa che lavori Cioè Una roba alluscinante 615 Dai dai Voglio arrivare a livello 10 Velocemente Per favore Pane in cassetta Questa parte qua È tutta pane in cassetta Mi fa godere tantissimo Mi fa godere È veramente soddisfacente raga È soddisfacentissima Questa cosa Ok Avrei dovuto comprare Probabilmente due di cereali Ah ne ho presi due Che bravo Che bravo che sono Ho già preso anche le misure Ho già preso Molto bene Molto bene Sì sì aspettate Che arrivo Arrivo immediatamente Acqua C'è da fare refill Scusate ma Se non la metto Dentro adesso Poi Non è fresca E vi lamentate Che non è fresca Quindi Fatemela semplicemente Mettere Non se ne parla più Vai di formaggio Olè Prendo l'ultima scatola Me la porto dentro Anzi no la porto dentro Inizio già a distribuire Masse grullo Cosa vuole questo? La farina costa troppo Se va bene Valla a comprare Dall'altra parte Allora sai che ti devo dire Cioè E io non posso mica stare a parlare Per due dollari Oh ma che cavolo E poi tutti sanno C'è l'inflazione Via Dammi un po' sta roba 15 dollari E 57 Ragazzi siamo eh Ci siamo quasi a livello 10 Guardate in alto a destra Ma te mi compri il pane Con Con la carta di credit Vabbè Scusatemi se vi ho fatto attendere Un pochino Signori ma Come vedete Non ho ancora Un piccolo aiutante Presto ci sarà Presto ci sarà E il servizio Sarà ancora più efficiente Bene così Di resto 16 E 52 1 2 Tieni Ciao Oh Da dove stava prendendo lei? Stava ciucciando dalla scatola Ho visto No Ho le scatole in mezzo alla strada Raga No 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 Questo non bene Questo non bene per niente Arrivo subito Arrivo 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 Eccomi Boda quanta roba Signore È record È record No Non è il record ancora Peccato 77 Ciao Comprate Comprate tutto Devo prendere nuovi prodotti ragazzi Devo prendere nuovi prodotti Per forza Che è successo? Ah scusami c'è ragione Devo restituire la tua carta di credito No 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 Non siamo quel genere di persona L'acqua 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 Sì 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 Arrivo subito Immediatamente Immediatamente Più veloce della luce In meno che voi possiate accorgervi In tempo di quanto possiate accorgervi Io sarò già alla cassa A battervi tutto 15 e 93 Olè Formaggio costa troppo E l'abbasserò un pochino Che vi devo dire L'abbasserò un pochino Prodotti trovati troppo costosi 8 Ma tanto erano praticamente sempre le uova È sceso il prezzo delle uova Proprio generale 382 Ok forse così stiamo esagerando Facciamo 4,50 Fantastico Dai apriamo Siamo pronti Già che ci sono adesso ne approfitto al volo E facciamo anche il pagamento Della banca Siamo quasi a livello 10 ragazzi Ci siamo Allora torna un secondo indietro Banca Pagamenti Paga questi 82 Raga appena arriva qualche cliente è fatta Cos'è che costa troppo per te Non ho ben capito Non ho capito Per niente 8 di roba Bene così 2 dollarini Ciao Livello 10 Ci siamo ragazzi Possiamo assumere il cassiere Let's go Let's go Madonna quanto godo Quanto godo Bellissimo Allora Fatture Saldiamole subito Così non ci pensiamo più Adesso Fondamentale Una nuova licenza per i prodotti Burro da arachidi Farina Olio d'olive No Olio d'olive ce l'ho già Anche la farina Spaghetti Riso basmati E sale No 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 Sinceramente preferisco altro Tipo torta torta Dolci cereali Barretta di cioccolato E yogurt Questa licenza del prodotto Mi piace molto di più Oh Quanta roba Oh mio dio Mi sa che avrò bisogno di un nuovo frigorifero Allora iniziamo a prendere i nuovi prodotti Subito Almeno uno di ciascuno Per averli tutti Perché tanto poi iniziamo a dire Eh ma Adesso Ti mancano questi prodotti Non ce l'hai Mentre lui lavora Io intanto refillo Perché qua Abbiamo un po' carenza di Dinero In questo momento Però io refillo Intanto gli scaffali Che bello vedere che sale da solo Sale da solo Sale da solo Cioè da solo Cioè il tipo che stiamo pagando in realtà Non è che sale da solo Però Non dobbiamo più battere noi Abbiamo fatto un upgrade fondamentale Non riesco a trovare il bonbon Taparò Eh arriva 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 Abbiate un attimo di pazienza Cioè ho appena preso la licenza Fatemelo arrivare Un secondo Come sono esigenti comunque i nostri clienti Eh Vai Gigi Batti tutto Batti Gigi Batte Forte Sempre È già arrivato tutto Davanti ai miei occhi I nuovi cereali Ragazzi Nuovi cereali Sullo scaffale Si gode Le caramelle Le caramelle ci stanno un botto Ci stanno un botto le caramelle Allora fammi settare velocemente questo Lo mettiamo a 7 Le caramelle le mettiamo a 6 Molto bene Fammi vedere un po' Questo dove deve andare Una torta tipo Vabbè finchè sta qua Top Posso impilarle Molto bene E lui batte alla cassa E noi andiamo avanti E noi andiamo avanti Tanta roba Tanta roba Raga oggi Con questo upgrade Cambia tutto eh Questo lo metti a 5 E questo lo metti a 3 Si si Facciamo bene a tenere i prezzi alti Comunque noi vogliamo solo Un certo tipo di clientela Non vogliamo gente a caso Nel nostro mini market Mini market ho detto Volevo dire Mega market Questi mi sa che devono andare in frigo Gli yogurt Solo che attualmente Non ho più spazio Nei frigoriferi Posso richiedere un nuovo prestito Oh 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 Calmi qua eh Però aspetta Forse mi conviene pagare prima Il primo prestito Eh E che cavolo Se no ci indebitiamo Stai vendendo un prodotto Senza fissarne il suo prezzo E qual è? La cioccolata 5 6 5 dollari 5 dollari Dai lo restituiamo in 15 giorni L'ho preso L'ho preso ragazzi Prendo il prestito Chiudo il primo debito Geniale Geniale Adesso posso acquistare il frigorifero Prendere ancora più yogurt Barrette Cereali Torta 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 Dolci Tè Latte Uova Siamo a 10 Ok Facciamo l'or No È finito il tempo Nella giornata Va bene Gigi puoi andare a dormire Oh 1994 Mi vanno di nascita raga Prodotti troppo costosi 14 Ma smettiamola Allora La torta È salita di prezzo Sbaglio Il bubu Bubu Questo qua 4 allora Madonna quanta roba qua fuori Madonna quanta roba Allora scaffale Questo No questo è il frigo Questo è il frigo Glielo piazzi Esattamente Accanto all'altro Bene Così possiamo mettere Gli yogurtini Gli yogurtini Questo è per pochi raga Questo è per pochi Chissà chi si ricorderà Sono un botto Raga gli yogurt sono veramente tantissimi Allora lo scaffale Tanto te lo svergo Qua Anzi mettiamo prima l'altro Ok Siamo un pochino stretti È vero eh Ma quanto stiamo da dio Quanto stiamo da dio Yogurt almeno a 3 Almeno a 3 Non scherziamo Bloccavo la strada Con questo scaffale Chiedo umilmente perdono Chiedo perdono Glielo piazzi qua Ottimo Ragazzi stiamo espandendo A macchia d'olio Sono così fiero Di Gigi E di me Potrei prendere la nuova sezione Ma secondo me Ancora non ha senso Piuttosto Le licenze Succo d'arancia Bibite Succo di mela Latte Confezione da 6 Spaghetti Riso Olio Burro d'arachidi Forse su burro d'arachidi Potremmo fare un buon ricarico Però aspetta Aspettiamo Un attimo Un attimo solo Potremmo aver esagerato Con lo yogurtino Ragazzi Candeggina Per esempio Livello 12 Richiesto Forse mi conviene vendere Allora anche queste cose qua Dai Prendiamo una nuova licenza Prodotto E acquistiamo Sale Riso Spaghetti Burro Farina Olio Raddoppiamo questi Vai Compra tutto Partiremo con gli spaghetti Oddio è finito il caffè È finito il caffè ragazzi È finito il coffee Uh Gli spaghetti si vendono a un botto eh Allora è finito il caffè Aspettate un attimo Devo ricomprare sicuramente l'olio qua Caffè Facciamo per due Uova Stavano finendo Formaggio Ce n'è ancora un botto Cioccolato Questi cereali andavano a ruba Raddoppiamo burro d'arachidi Il resto Ok Raga Oh Mio Dio ho comprato troppa roba Ho comprato troppa roba ragazzi Ho comprato troppa roba Sul burrozzo d'arachidi Oddio Il riso basmati A un prezzo altissimo Ma che lusso Bene così L'olio d'oliva in bottiglia Madonna Questo costosissimo eh Questo costosissimo Sembra Keglevic Raga Non riesco a trovare l'olio d'oliva L'ho appena messo Sveglia Dai Però un po' di reattività Un minimo Spaghetti non sono andati tantissimo eh Pensavo di più Cioè erano partiti da Dio Qua sono rallentati un sacco Il tè va sempre da Dio Gigi Lei sta facendo gli straordinari oggi Le chiedo scusa Prodotti troppo costosi 25 Ma mi sembra esagerato Pepites Torta Aumentato il prezzo Tieni 5.49 Da Dio Salve Lei è la prima cliente di oggi Dobbiamo prendere le nuove licenze Ho bisogno di più prodotti Molti più prodotti Peccato che non ci sia un tasto Tipo velocizzazione Per permetterti di andare avanti Costa troppo lo yogurt Vai facciamo 2,20 2,20 Ho cambiato il prezzo eh Dello yogurt Pana in cassetta non sta andando tantissimo Abbassiamo un po' il prezzo Gigi Si sta creando la coda eh Io non voglio mica licenziarti Però Cioè non mi far tornare indietro con le mie idee Per favore La farina costa troppo per me Dai 3,24 Dai mettiamo i prezzi giusti Anche la papa torta costa troppo E vabbè Ho capito Ma ragazzi Qui la baracca qualcuno deve tenerla aperta Raga voglio provare a fare una cosa Voglio provare a fare una cosa Allora Adesso guardo La tipa che prende il cereale Ok E metto 100 Vediamo Lei ha preso i cereali eh Lei ha preso i cereali Se mi dà 100 Abbiamo trovato il glitch nel matrix Vediamo eh Lei ha preso i cereali Li ho messi a 100 dollari Vediamo il totale Appena li batte È leggendario se funziona eh Ecco il cereale Ah no Che fregatura Non si può fare ragazzi Ho provato a scammarla Mette il prezzo di quando l'ha preso giustamente dallo scaffale Oh GG GG c'è una coda pazzesca Oh mio dio Abbiamo praticamente finito tutti i soldi Del profitto di oggi Ma A che pro Guardate qua raga Una nuova cassa Una nuova cassa ragazzi Siamo sempre più grandi Ok non c'è molto spazio in realtà per questa cassa Porca sozza Allora adesso non voglio No 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 Allora aspetta 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 Allora Impacchettami un attimo sta cosa Questa è per l'espansione Ancora non va bene Un attimo Oh mio dio GG GG È un disastro la coda è lunghissima Pane in cassetta finalmente è ripartito il business Per un po' non l'avevano mai comprato Cioè è una roba assurda Bene Finita la giornata GG Puoi andare Sono diminuiti i prodotti troppo costosi Per le lamentele La pepita si è salita E anche la papa torta Ok Qui facciamo 5,49 Che è la pepita Se la papa torta Vabbè Ce l'avevamo già più alta Abbassiamolo Banca Allora questo glielo paghiamo Paghiamo anche queste fatture Allora Per assumere il prossimo Ho bisogno del negozio a livello 20 20 è tantissimo Sei impazzito Non posso scalare ragazzi Non posso scalare Però posso prendere la candeggina finalmente Perché siamo a livello 12 Quanto costa? 7,50 Oh mio dio Va bene Facciamo Facciamo il prestito con la banca Gli restituiamo Ma facciamolo lungo Così devo dare pochissimo Quindi prendo la candeggina Ok Così abbiamo un nuovo reparto Carta igienica Shampoo Shampoo manica Candeggina Detergente Pastiglie per la lavastoviglie Raddoppiamo questi Così Abbiamo già il secondo giro 500 Siscos Ah no 388 Un bot Uh la luce Scusatemi Barretta di cioccolato Costa troppo per me Vabbè A me sembra un buffone Semplicemente Cioè Oh no Gli scatoloni di questi materiali Di questa roba Raga sono alti E grossi Carta igienica Piazzagliela lassù Oh mio dio Occupa un botto La carta igienica Occupa un botto Gli spray Mastro Lindus 3.49 Oh mio dio Non ho più spazio 15 la carta igienica Let's go Facciamo anche 16 Questi sono per la lavastoviglie Ok Potrebbe avere senso Fare un reparto Solo ed esclusivamente Per questi eh Perché Così insomma I detersivi Insieme al riso basmati È un po' strano Sicuramente 21 Oh mio dio Costano un botto Sti prodotti Per la pulizia Abbiamo fatto meno A prendere la licenza Raga eh Poi abbiamo il sapone Sapone qua sotto Beh adesso siamo Un supermarket A tutti gli effetti Ragazzi Abbiamo pure la carta igienica Ehm È finita Ok 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 Calma Calma Sono finite cose Ma tanto sono le 9 Non posso ordinare Lo ordiniamo domani ormai Potrei aver bisogno Di un nuovo scaffale Allora intanto Questo frigo Lo spostiamo E lo mettiamo Esattamente qua Così uno magari Può entrare E rifocillarsi Subito Dal frigo Sempre meno lamentele Però prodotti Non trovati Allora Crispi Cereali Sono saliti Di prezzo Ce li avevo già Alti Vabbè facciamo 6.49 Poi le altre cose Me le sono perse Cerellatte Può darsi Forse c'era Forse c'era il latte Da far salire Oh Oh La torre di Pisa Ragazzi È caduto tutto È arrivato lo scaffale nuovo Scaffale nuovo Ah non lo posso mettere Come volevo Ai 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 Però lo posso mettere così Bello Bello subito Ad ingresso Così Non mi dispiace Formaggio c'è Uova ci sono Saponi Piazza ancora qua Piazza niente altri davanti Ok sto diventando tipo Acqua e sapone In questo momento Un po' esagerata La situazione Ma alla fine Il prestito L'avevamo preso Sì L'avevamo preso Dobbiamo anche pagare Tra l'altro Bene 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 Fatture 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 qua Top C'è un po' di coda Sì Vero Eh ma meglio che ci sia Un po' di coda No Io il secondo cassiere Ancora non lo posso prendere Quindi è inevitabile Attualmente Questa situazione Altri spray Mettiamoli là sotto Probabilmente ho esagerato Dai che appena mi batti Questo cliente Paghiamo anche la banca Così non ci rompe più Le scatole Buon Andato Cosa c'è qua sopra Le candeggine Queste tanto abbiamo visto Che vanno essenzialmente A ruba Ma ma che bellezza Che bellezza Questo negozietto Ragazzi Stiamo andando da dio Cioè abbiamo fatto anche Assunzioni Oggi Espansioni di tutto Questo si è comprato Due cartigeni Che cosa vuole mia mamma Adesso non posso rispondere Mamma sto lavorando Vedi Sto lavorando Dentro al lavoro Un lavoro Sception Questo frigo È un po' vuotino Effettivamente Comunque posso Leggermente andare Più in qua Secondo me E guadagnare Spazio davanti Per non avere Un negozio Claustrofobico Eeeh Mannaglia C'è da comprare Il magazzino Ragazzi ve lo dico C'ho scatoloni Dappertutto Ragazzi Non so se va bene Questa cosa Facciamo una brutta figura Con i clienti Non riesco a trovare La pasta Pansani La pasta Pansani Domani la facciamo Arrivare Ne facciamo arrivare Cinque scatoloni Riprendiamo anche Lo zucchero Riprendiamo anche Il caffè Riprendiamo anche Il tè nero E burro d'arachidi Non visto a che punto siamo Lo riprendiamo Prendiamo anche Il riso basmati Dai Veloci Dobbiamo finire La giornata Forza Mi metterei anche io A lavorare sodo E anche oggi Un ottimo profitto Allora Sapone salito Il riso basmati E le uova Sapone salito Lo mettiamo A 3 dollari Riso basmati Adesso lo metto Prima le uova Le uova Le uova Va bene così Riso basmati Invece Uuu Facciamo anche 888 888 Per i riso basmati Let's go Allora Facciamo questo ordine Rapidamente TS BAM Paghiamo Velocemente Fatture Della giornata E intanto Il primo debito Quello Da Da 750 Devo pagare 173 Il prima possibile Quindi Apriamo Gli scatoloni Per me sono già arrivati La pasta È finalmente Tornata Nei nostri Scaffalettini A disposizione Burro D'arachidi Burro D'arachidi Abbiamo Due ripiani Belli Sugosi Non c'entra Sì C'è entrato Raga C'entra Cioè Ma che cavolo Ma come l'abbiamo messa Ok Fammi spostare Va È inutile È inutile Non c'è spazio Per fare questa cosa Livello Negozio 13 Quando potrò Prendere il secondo Cassiere Raga Sarà incredibile Però Mi servirà Sicuramente Un po' più spazio Perché adesso Vedete Siamo veramente Limitati Abbiamo tantissimi soldi Però investiti in prodotti E quando verranno venduti Tutti questi prodotti Vi garantisco che Si gode Si gode Ma io non è che posso Rivendere volendo La cassa Se non la voglio più No eh Eh Quello è stato un investimento Sbagliato ragazzi Sì Decisamente O prendo nuove licenze Per nuovi prodotti Succo d'arancia Succo di mela Beh Può avere senso in realtà Ci sono anche le mozzarella Il parmigiano Però dopo abbiamo Troppa roba E non riesco a gestirla Secondo me per adesso Va bene così Inizio a distribuire un po' Di questa farina Un botto di roba qua eh Un botto Il caffè costa troppo Allora da quando l'ho alzato A 13 Effettivamente si lamentano In tanti L'ho rimesso a 11 Aspettiamo che finisca la giornata Chiudiamo i conti E facciamo la giornata di domani E poi chiudiamo il video Buono Ultima cliente di oggi Un solo prodotto non trovato E 5 non costo Più troppo costosi Sempre Meno Farine alzate E crispy cereali Ok questi lo metti a 7 Le farine si sono alzate Puoi fare 4 Allora anche la supreme Anche la supreme Fa i 7 11 Top Apriamo già Da dio Il burro d'arachidi Il refill Di cui tutti avevano bisogno Essenzialmente Me ne avanza 1 Mannaggia Allora io Suggerirei Appena possibile Prendiamo Lo sviluppo Con la sezione 3 Costa 7,50 E si espande In un 4x4 O di 4x4 Come di 4x4 Di 4x4 E tanto Diventa gigantesco Siete sicuri di quello Che state dicendo Vedete che la coda È bella lunga Comunque Ho bisogno di quello spazio Per poter mettere Anche la mia cassa Perché magari In questa situazione Eh situazione La situazione Le casse sono piene Si sta lamentando La tipa Avete visto? Avete visto? La tipa si è lamentata Le casse sono piene Ha ragione La tipa ha ragione Non le si può dire nulla Posso? Posso Ok Su Buono 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 Così velocizziamo il tutto Doppia cassa 36.23 Vai Prossimo Avanti Così velocizziamo ogni cosa 7 dollari E 0,02 Tieni Poi Allora fammi smontare un attimo questo Perché abbiamo i soldi ragazzi Abbiamo i soldi Abbiamo già pagato tutto Vero oggi? Perfetto Allora abbiamo i soldi Gestione Sviluppo Sezione 3 Acquistato Ok Ok Raga Ok Che bello Che bello Allora aspetta 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 Qua va sfruttato per bene Lo spazio Va sfruttato per bene Lì ci mettiamo un frigorifero Secondo me Ci può stare Questo lo mettiamo qua Questo frigorifero Non è possibile rimuovere? Dai vieni con me Zitto Questo lo piazzi lì Ok Ok Devo comprare un punto luce Il prima possibile Intanto sposto questo Lo metto qua Bene così Molto bene Ah questo lo posso avvicinare Così non stiamo a comprarne altri Lo metto qua E questo invece Si avvicina leggermente Da questo lato Ok Ok D'addio D'addio ragazzi Ah posso spostare un attimo questo scaffale Lo mettiamo qua Buono Buono raga Mo sembra un supermercato vero Allora allora Qua c'è da fare una modifica Secondo me Questi Per questo verso Molto meglio Molto meglio per questo verso qua Ok Guardate quanto spazio abbiamo generato Fatemi un attimo mettere giù la cassa Che lo aiuto Guarda In diagonale In diagonale la mia cassa Si Signora Sta venendo qua No Molto bene Molto bene ragazzi Abbiamo lo spazio per la seconda cassa Eh A tutti gli effetti Posso svergargliela qua Solo che il frigorifero Adesso è nel punto sbagliato lì Ma Lo posso mettere qua Top Giusto? No No per un pelo Per un pelo non lo posso mettere Qua si però Qua si Qua si se levo questa scatola maledetta Ok così abbiamo l'angolo Refrigerato Lì all'inizio Bene che qualcuno ha comprato finalmente Questo maledetto zucchero Che ce l'ho lì da un botto di tempo Ah Gigi Che lusso Che lusso Questo è progresso vero Raga Che benessere Ok Allora Ci abbiamo qua un sacco di farina Vero? Si Allora prima di chiudere la giornata Fammi mettere Farina Subito sugli scaffali L'ordine l'avevamo già preparato Mi sembra per il giorno dopo Vero? Penso proprio di si Si era già pronto Fantastico Raga L'espansione di oggi Nel supermercato È andata veramente da dio Abbiamo un dipendente nuovo Ampliato la zona Un sacco di reparti diversi Con licenze diverse Si vola Cari amici Lo spero che questo appuntamento Di simulatore di supermercato Vi sia piaciuto Se volete il prossimo Fate lo volete sempre qua sotto Nei commenti Un bel pollicione in su Iscrivete a canale che arriviamo a un milione Quando sapere tutto Buone Si una domanda Ma avete intenzione Di farmi prendere i prodotti Anche da freezer Oppure no Cioè voglio vendere Quello che si può Pizze Gelati Fare il cash Pizze